Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti a questo nuovo numero di Yo Radio City, qui le cose si moltiplicano, aumentano e la cosa ci fa piacere, aumenta anche il lavoro del nostro tecnico Samuele, però lui se ne deve fare una ragione. Abbiamo un sacco di cose da dirci oggi, cominciamo con l'almanacco, 14 dicembre sono nati Sandro Giacobbe, Spike Jones, Dora Moroni, Lee Remick, qualche tratto della personalità di che è nato oggi, vi distinguete dalla massa per i vostri gusti ed obiettivi originali e pertanto vi si addice l'appartenenza ad organizzazioni e gruppi in cui possiate esprivermi senza censuri o interferenze. Trascorrere piacevoli serate con gli amici nella vostra casa e secondo il vostro stile di vita probabilmente vi dà maggiore soddisfazione rispetto alle grandi feste in cui siete costretti a confondervi nella folla. Poiché il vostro innato buon umore può subire un duro colpo se venite aspramente criticati, non esitate a prendere le misure necessarie per rafforzare l'autostima, così facendo essa si dimostrerà il vostro migliore alleato. Benissimo, passiamo a queste informazioni belle sempre dall'almanacco. Oggi si festeggia San Giovanni della Croce, San Pompeo e San Venanzio Fortunato. Il sole sorge alle 7.30 e tramonta alle 16.39. Bene, 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 anche questo lo abbiamo detto. Ci vediamo le previsioni meteo qui nell'ultima pagina del quotidiano. Ci leggiamo giornata caratterizzata da un cielo più nuvoloso e piovoso sul Gargano con precipitazioni generalmente deboli, cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto della Puglia. Bel tempo prevalente, va bene, temperature in Puglia le massime saranno comprese tra i 10 e i 18 gradi, i valori notturni scenderanno fino a raggiungere gli 8-12 gradi. Vediamo i venti, i venti sono sempre da sud-est e poi insomma il mare è ancora mosso. Va bene, comunque abbiamo avuto questa questa botta di freddo velocissima e sembra che adesso stia tornando piano piano tutto alla normalità. Oggi non c'è credo una giornata internazionale da celebrare. La più vicina è quella del 18 dicembre, quindi fra quattro giorni sarà la giornata internazionale dei migranti. Ecco, sarebbe bello assistere a delle iniziative a proposito. Possiamo passare, se il nostro buon Samuele non ci manda spot di vario genere, diamo la nostra informazione di contatto. Ecco qua, è partito lo spot della ASL sulla necessità di vaccinarsi contro l'influenza. Ecco qui, ci sono delle categorie che sono più sensibili delle altre. Vaccinarsi non costa niente. Ecco qua, ecco qua, l'importanza della prevenzione. Così non ci perdiamo giornate di vita, giornate di relazione, giornate di lavoro. Ecco qua, ecco qua, il vaccino è gratuito anche per i donatori di sangue ai bambini con difficoltà respiratorie. Ecco qua, l'igiene delle mani, le secrezioni respiratorie, piccoli accorgimenti per vivere meglio. Ecco qua, campagna di vaccinazione antinfluenzale 2018-2019. Bene, 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 brava la ASL, benissimo. Nelle nostre informazioni di contatto il buon Samuele ci mette in sovraimpressione, eccola qua, questa scritta, eccola qua, questa qui sotto, 099-779-4899 per chi vuole intervenire. È un nostro amico che ci segue ogni giorno, ci ha mandato una segnalazione che noi facciamo nostra, perché insomma è un problema abbastanza sentito. Lui dice, come mai non si riesce a individuare chi fa scoppiare i fuochi d'artificio a 5 metri dall'ospedale Santissima Annunziata? È una bella domanda ed è anche lecita, effettivamente con tutta l'intelligence di cui disponiamo. Non siamo ancora riusciti a venire a capo di questo problema, non da poco. Dunque, possiamo andare all'interno dei nostri giornali, ringraziamo il nostro giornalaio di fiducia, e sul quotidiano leggiamo l'iniziativa di Arcelor Mittal, Bambini gratis sulla pista di pattinaggio. Mentre proseguono i lavori di realizzazione del piano ambientale, di cui il completamento del primo arco della copertura dei parchi minerali dimostra il continuo e rapido avanzamento, Arcelor Mittal Italia vuole festeggiare le prossime festività natalizie con un percorso di integrazione e partecipazione alla vita della comunità di Taranto. Con questo spirito, da ieri e fino al 20 gennaio 2019, Arcelor Mittal Italia invita tutti i bambini fino a sei anni a pattinare gratuitamente sulla pista di ghiaccio di Piazza della Vittoria. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 18, avranno a disposizione i pattini e per i più piccoli anche un simpatico sostegno a forma di pinguino per non cadere. Inoltre, l'azienda ha aderito al programma natalizio del Comune di Taranto, contribuendo alla realizzazione delle luminarie che già illuminano la città. L'auspicio è quello di trascorrere questo primo Natale di Arcelor Mittal Italia simbolicamente insieme a tutta la comunità di Taranto di cui l'azienda vuole essere parte integrante guardando al futuro. Speriamo di avercelo un futuro. Andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno e qui in una pagina interna speciale a firma di Francesca Ambrosi leggiamo a Taranto il vecchio, riferendosi a Babbo Natale e Marino. A Taranto il Natale si apre con il quinto villaggio di Babbo Natale sul mare. Spalancato ai più curiosi e con ingresso gratuito è dedicato alle famiglie e ai bambini, i quali avranno la possibilità di recuperare un modo più antico e genuino di giocare con i loro coetanei, anche riscoprendo le risorse della propria città. L'evento, che si svolge da oggi fino a domenica, vuole essere infatti allo stesso tempo un'occasione di incontro che permetta ai bambini di confrontarsi attraverso i giochi di un tempo. Si vedrà Babbo Natale abbandonare la slitta e scegliere la via del mare. Un Babbo Natale insolito giungerà in barca, proprio questo vuole essere anche un modo per suscitare l'attenzione e avvicinare i più piccoli alla risorsa e agli sport del mare. Nei tre giorni il molo Sant'Eligio si trasforma in un allegro e colorato villaggio nel quale non mancheranno escursioni in mare, mercatini artigianali, laboratori artistici e laboratori culturali con gli elfi, i clown, i balloon artist, i teatrini, l'ufficio postale di Babbo Natale, il trucca bimbi, il raccontafavole, lo zucchero filato, caramelle, trampolieri, mascot, insieme a uno spettacolo d'eccezione di un mago per bambini. Bellissimo, bellissimo. Ma non sono gli unici eventi in città. Da segnalare il videomapping, la fabbrica di Babbo Natale al Castello Aragonese e poi da segnalare oggi, 14 dicembre, l'inaugurazione del presepe di Vivente di Crispiano nella città vecchia di Taranto. Quindi una cosa fortemente suggestiva, io già me l'immagino, i vicoletti stretti di Tarantovecchia con questi figuranti del presepe di Crispiano, deve essere qualcosa di straordinario da non perdere. Cosa possiamo dirci ancora? Dunque vediamo un po' le segnalazioni. Ah sì, ci sono le frasi celebri, qui ne abbiamo una di Papa Paolo VI e credo che l'abbia pronunciato, addirittura la sera di Natale del 1968, quindi fra qualche giorno ricorre il cinquantenario di questa visita straordinaria di Papa Montini a Taranto all'interno dello stabilimento siderurgico e lui disse una frase che è rimasta impressa a tutti. L'uomo vale più della macchina e più della sua produzione. Sono frasi che probabilmente non abbiamo mai ascoltato veramente. Cosa più? Dunque abbiamo fatto il meteo, l'abbiamo detto, gli eventi, l'informazione di contatto, la pulizia delle strade. Sì, siamo ancora in attesa dell'elenco delle strade nelle quali si fa la pulizia notturna, però siamo fiduciosi, le avremo prima del nuovo anno. Vi ricordiamo che oggi pomeriggio ospite di Yo Radio alle 15, quindi stesso canale che state vedendo adesso, ci sarà il presidente di Confindustria Taranto, Vincenzo Cesareo. Non ce lo perdiamo perché sicuramente ci dirà delle cose interessantissime. Ah, il numero verde, il buon Samuele puntuale e preciso ci ha messo il numero verde dell'AMIU, perché? Perché la nostra preghiera è che nessuno più lasci ingombranti, rifiuti ingombranti per le strade della città, quindi non vogliamo più vedere divani, materassi, soggiorni lasciati all'angolo delle strade. C'è un numero verde, la chiamata è gratuita, il servizio è gratuito, voi chiamate l'AMIU e l'AMIU vi dice di lasciare questi rifiuti ingombranti a un certo orario vicino il vostro cassonetto, quindi si tratta solamente di mettersi d'accordo, non costa nulla. Fatelo perché ne guadagniamo tutti quanti. La bufala del giorno. La bufala del giorno, sì, questa è una cosa che è interessante. Ecco qui, la bufala che girava ieri ritraeva questa bella ragazza e diceva sopravvissuta a tre attentati, Strasburgo 2018, Bruxelles 2016 e Parigi 2015. L'incredibile storia di Giorgia. Ad ogni attentato terroristico corrisponde la storia del sopravvissuto all'attacco del momento, ma anche ad almeno due dei precedenti, in una mesta escalation di sventura, ma anche di fortuna, che porta il diretto interessato a poter raccontare la sua storia. Oggi TP News riporta la storia di Giorgia Ranzato, assistente dell'europarlamentare Flavio Zanonato, raccontata nei fatti reali all'interno del testo, ma riportata come sequenza di sfortuna barra fortuna nel titolo. In pratica, secondo il titolo, la ragazza sarebbe sopravvissuta a tre attentati, ma nei fatti si trovava nelle città delle stragi, ma non esattamente nei luoghi interessati. Per esempio, 7 gennaio 2015, l'attacco alla sede di Charlie Hebdo. Il 7 gennaio 2015, la sede del giornale satirico Charlie Hebdo veniva presa ad assalto da due attentatori incappucciati e Giorgia Ranzato era appena atterrata a Parigi per iniziare il suo percorso Erasmus. Durante la sparatoria Giorgia si trovava, lo riporta anche il Corriere della Sera, in transito verso l'appartamento presso il quale aveva alloggiato e da nessuna parte si legge che si trovasse presso la sede di Charlie Hebdo. Si trovava sia a Parigi, ma non nel luogo della tragedia. 22 maggio 2016, il triplice attacco a Bruxelles. Ecco qui, il terrorismo colpì di nuovo l'Europa con tre attacchi coordinati presso la città di Bruxelles, due dei quali presso l'aeroporto di Bruxelles National, comune di Zaventem e il terzo alla stazione metropolitana di Melbeck. Giorgia al Jaba Bruxelles è da una decina di giorni per un continuocinio ottenuto alla delegazione della regione Veneto all'Unione Europea. Essendo tempo di vacanze pasquali, sua cugina, non lei, si stava recando all'aeroporto e in quel momento esplosero le due bombe. Giorgia, racconta, la chiamò mentre si trovava ancora a casa e si accertò che stesse bene. Decise quindi di raggiungere l'ufficio prendendo la metropolitana e si trovava nella zona di Belmeck, ma quando la terza esplosione era già avvenuta. E poi 21 dicembre 2018, solo qualche giorno fa, l'attacco a Strasburgo. L'11 dicembre si è verificato l'ultimo attentato alla Francia con l'attacco di Sheriff Cecat ai mercatini di Natale di Strasburgo intorno alle ore 20. Alla stessa ora Giorgia si trovava, secondo i suoi racconti, alla sede del Parlamento Europeo, essendo attualmente assistente di Zanonato per un tirocinio cominciato ad aprile. Una deputata ha interrotto una riunione che si stava tenendo e tutti i deputati presenti sono stati evacuati e scortati dalla Polizia con le macchine del Parlamento insieme ai funzionari e gli assistenti. Giorgia è poi tornata al bed and breakfast presso il quale alloggiava nella zona della stazione. Il Parlamento Europeo dista almeno tre chilometri da Rue des Grands Arcades, luogo dell'attentato. E quindi ecco qui parliamo di acchiappaclic in sostanza perché per sottolineare che Giorgia Ranzato si trovava nelle città colpite dagli attentati citati, ma non si trovava sui luoghi delle stragi. Quindi questo ecco è un'altra bufala e va detto, va detto. Possiamo chiudere, dunque, 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 possiamo chiudere con questo suggerimento. Vediamo sul paginone centrale di Extra di questa settimana, nella rubrica segnalibro vediamo il simpaticissimo PIF. Ecco qui, noi leggiamo questo articolo che è a firma di Roberta Criscio. Periodo impegnativo il mese di dicembre, spesso può rivelarsi piuttosto complicato perché a essere tutti più buoni talvolta si fa una fatica che non vi dico. C'è bisogno di un bel libro leggero, divertente, che faccia sorridere e che rilassi. Ne prendo uno dalla copertina carinissima, ma in realtà è il nome dell'autore ad avermi attirato. Inizio a leggerne qualche pagina e dopo un po' mi blocco perché mi rendo conto di una cosa bizzarra. In tutti quei minuti nella mia mente ho letto con la voce di PIF, perché il libro in questione è Che Dio perdona a tutti, romanzo d'esordio del testimone più simpatico d'Italia. Badate bene però che simpatico lo è davvero, ma tutto questo umorismo cela in realtà riflessioni ben più profonde. PIF vuole farvi credere che il suo libro sia solo divertente e leggero e invece no. Ridendo e leggendo vi schiaffeggia con un'analisi attenta e molto critica, oltre che assolutamente veritiera, della società attuale, svelandone le ipocrisie e strappando via maschere come un moderno pirandello. Prendiamo la religione, per esempio, tema centrale di questo romanzo. Quanti di noi si professano cristiani ma poi mettono in pratica proprio nulla di quanto è scritto nei Vangeli? Quanti di noi vanno in chiesa la domenica e poi vedono i barconi pieni di gente da aiutare e fanno la faccia disgustata trincerandosi dietro la demagogia pressapochista dell'aiutiamoli a casa loro? Quanti di noi ancora si fermano ad aiutare qualcuno in difficoltà, dicono la verità rischiando di passare poi per pazzi, si spogliano dei propri averi per donarli ai poveri? Pochi direi, perché la fede è facile fino a quando resta una parola di cui riempirsi la bocca, ma fare qualcosa di concreto non lo è affatto. Bravissima Roberta Criscio. Possiamo chiudere a questo punto il nostro appuntamento quotidiano innanzitutto invitandovi a fare colazione nei bar della città perché dalla settimana prossima ci sarà un nostro emissario, magari a fianco a voi, ma nemmeno ve ne accorgete, non lo percepite, però vi offrirà la colazione, quindi in campana, colazione durante la trasmissione Io Radio City alle nove in punto. E poi possiamo chiudere con un aforisma, questo è l'aforisma che si chiama Principio di Rubi e dice le probabilità di incontrare qualcuno che conosci aumentano quando sei con qualcuno con cui non vuoi essere visto. Grazie a tutti per l'attenzione, vi auguriamo un buon weekend e ci vediamo la settimana prossima. Divertitevi! Grazie a tutti!